Venerdì scorso il primo appuntamento con il Movimento Agrigento 2030, ma anche con gli amici del Centro Storico di Agrigento, con Mattiasi Lopilato. Venerdì prossimo Francesco Picarella, il secondo appuntamento con Agrigento 2030. Di cosa si tratta? Sì, venerdì facciamo il secondo appuntamento appunto di Moviagì, che è questa metropolitana urbana pedonale che percorre il Centro Storico di Agrigento. In totale sono cinque appuntamenti. Venerdì scorso abbiamo fatto la linea chiaramontana e invece per questo venerdì porteremo a spasso gli egrigentini, ai turisti che ci vorranno fare compagnia, seguendo l'itinerario del Serpot e del Barocco. Un appuntamento che ormai sta diventando fisso perché già nel primo appuntamento eravamo già in circa 200. Speriamo di avere nuovamente un buon successo di pubblico e naturalmente l'appuntamento è per giorno 7 alle ore 18 in compartenza dal monastero di Santo Spirito. Un'occasione per conoscere Agrigento, per conoscere i vicoli e i luoghi del Centro Storico, un'occasione anche per noi giovani per poter fare turisti nella nostra città. Quindi non mi rimane che invitare i molti giovani e le persone che vedranno questo video venerdì giorno 7 a compartenza dal monastero di Santo Spirito. Passate parola, è più possibile, più siamo e meglio è. Passate parola, è più possibile, più siamo e meglio.